Buongiorno a tutti, benvenuti e buongiorno a Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle. Benvenuto. Grazie, grazie dell'invito. Siamo molto molto lieti che abbia accettato il nostro invito. Luigi Di Maio risponderà alle vostre domande, molte, molto belle. Sono già arrivate via email, continuate a mandarle, io ne leggerò il più possibile, però comincerei subito a parlare di un appuntamento importante che aspetta i 5 Stelle a Imola tra qualche settimana, il 17 e il 18 ottobre, con un tema particolare quest'anno. Non è più Italia 5 Stelle, ma è un governo a 5 Stelle. Che succede a Imola? Imola sarà un evento importantissimo per il Movimento perché è l'evento in cui ogni anno riguardiamo e ripercorriamo quello che abbiamo fatto nell'anno precedente con il Movimento nelle istituzioni. Tutti i risultati raggiunti. Oggi andiamo, quest'anno andiamo ad Italia 5 Stelle con in tasca la legge sui reati ambientali che manda in galera per più di vent'anni chi commette un reato ambientale e tanti altri piccoli risultati che sommandosi fanno di noi una forza d'opposizione che si oppone alle cose sbagliate, ma è anche una forza che quando deve collaborare sulle cose buone ha anche quella forza propositiva per migliorare le proposte di governo. Italia 5 Stelle si terrà il 17-18 ottobre a Imola e sarà un'occasione per chi non ci vota, per chi non ci conosce o per chi ha un pregiudizio verso di noi non di venire ad ascoltare una persona dal palco, ma di poter prendere il microfono e discutere un tema del nostro programma. Ci saranno tante agora nelle quali qualunque cittadino potrà discutere con qualunque parlamentare, consigliere regionale, attivista del Movimento sui temi del reddito di cittadinanza, di Equitalia, del fisco, della scuola. Discuteremo di questi temi e metteremo anche in discussione questi temi per arricchirli con il confronto con i cittadini. Essere una forza di governo vera, seria, significa individuare le soluzioni ai problemi degli italiani ascoltando prima di tutto chi vive quei problemi. Questa è una cosa che non si fa da troppo tempo. Ascoltare e poi legiferare. Io assisto sempre a quello che dice il Presidente del Consiglio che prima fa le leggi e poi dice però ascolteremo i medici dopo i tagli alla sanità, ascolteremo i docenti dopo che abbiamo massacrato la scuola. Noi vogliamo fare l'inverso e la differenza quest'anno di Italia 5 Stelle sarà ancora una volta la grandezza del Movimento che è cresciuto ancora di più in numeri ma anche in tematiche perché le esperienze nelle istituzioni apportano un ulteriore contributo sui temi. Per la buona scuola c'era stata una compagna d'ascolto, poi forse non è andata troppo bene, non l'avevano ascoltato troppo bene, però l'avevano lanciata. Prima avevano fatto il disegno di legge, poi hanno lanciato la campagna d'ascolto e poi si sono ritrovati 500.000 docenti in piazza, tra docenti e personali. L'anno scorso, lei si ricorderà sicuramente, eravamo a Roma, c'è stata appunto Italia 5 Stelle a Roma, al Circo Massimo, c'erano stati dei problemi con il sindaco di Parma Pizzarotti che chiedeva un incontro di tipo diverso, cioè un incontro in cui gli amministratori dei 5 Stelle potessero confrontarsi, scambiare le buone pratiche. Non dico un congresso, ma una specie di congresso. Poi ci doveva essere un incontro dei sindaci dei 5 Stelle quest'estate che è saltato. Lei è responsabile degli enti locali nel direttorio. Ci sarà un momento di questo tipo? Risponderete anche ad esigenze di questo tipo? Italia 5 Stelle è un momento in cui il movimento non parla di se stesso, parla dei temi. Quello sarà l'occasione per confrontarsi prima di tutto con tutte le persone che vogliono conoscere il movimento. Sarà un momento importante di arricchimento dall'esterno verso l'interno. Se le persone che verranno ad Italia 5 Stelle, invito veramente tutti, e ovviamente sei invitata anche tu, e ti toccherà purtroppo o per fortuna, questo dipende dai punti di vista, tutte quelle persone verranno a discutere di temi importanti quali trasporti, quali servizi sociali, che sono temi comunali. Quindi sarà anche interessante ascoltare come migliorare la nostra azione nei comuni direttamente dai diretti interessati. Per tutto quello che attiene ai sindaci del Movimento 5 Stelle, noi ormai siamo oltre i 10 comuni che governiamo in Italia e in questi comuni stiamo cercando di trovare dei fili conduttori. È difficile perché i sindaci sono più impegnati del Vice Presidente della Camera o di un parlamentare perché hanno continuamente delle questioni contingenti da risolvere. Quando riuscirò a metterci tutti insieme sarà un'ottima cosa. Però intanto stiamo lavorando, per esempio, in tutti i comuni dove governiamo Equitalia non c'è più. Questo è un dato di fatto, eccetto quelli che sono stati appena eletti che stanno aspettando la scadenza dei contratti entro dicembre. Io le posso dire che in tutti i comuni dove governiamo, ovviamente le ultime elezioni devono aspettare dicembre per far scadere le convenzioni. Equitalia non c'è più. Significa fare una riscossione coscienziosa. Cioè se un commerciante o una famiglia mi deve 100 euro di tasse, io faccio in modo che me le dia anche attraverso una dilazione, non gli mando una cartella esattoriale di 6.000 euro dopo un anno o di 3.000 euro dopo un anno. Facile forse operazioni di questo tipo nei comuni più piccoli. Penso che in comuni più grandi sia più complicato anche per... Beh no, per esempio, ora non voglio parlare, ci sono anche altre città molto grandi che non governiamo noi, che hanno fatto questa esperienza, soprattutto con sindaci di liste civiche. L'ultima esperienza che è venuta dietro al Movimento 5 Stelle è il sindaco di Napoli, per esempio. Stiamo parlando di una città importante anche dal punto di vista della riscossione, non deve essere una cosa semplice. C'è una domanda di Francesco, gliela leggo, perché è legata secondo me molto a Imola, forse la può mandare anche la regia. Desidererei sapere, nell'eventualità che il Movimento 5 Stelle vincesse le prossime elezioni, se i ministri del governo sarebbero scelti tra eminenti personalità esterne al Movimento, visto che nel partito, a parte due o tre persone, non vedo chi abbia la caratura per svolgere quel ruolo. Saluti Francesco. Si è parlato, si è detto che a Italia 5 Stelle forse proporrete anche una squadra di governo. No, questo lo smentisco perché noi lì arricchiremo il programma di governo. Veniamo da un'epoca, stiamo parlando di 20-30 anni, in cui il berlusconismo e in generale oggi anche il renzismo mettono il chi davanti al cosa. Per noi viene prima il cosa. Cosa vuoi fare, come vuoi cambiare questo paese? E per questo ai primi due punti del nostro programma del 2013 avevamo il reddito di cittadinanza e gli aiuti alle imprese che sono ancora il nostro caposaldo, perché col reddito di cittadinanza chi non ha lavoro si può formare per averlo e con gli aiuti alle imprese crea i posti di lavoro per darlo a chi non ce l'ha. Questi due capisaldi sono solo i primi due punti di un programma che vogliamo discutere. Le personalità che comporranno la squadra di governo, io penso che attualmente non posso rispondere a questa domanda perché noi dovremo trovare il metodo prima di tutto per permettere in maniera partecipata che nella squadra di governo vadano sicuramente personalità, come diceva, eminenti personalità, ma che abbiano l'esperienza che significa vivere i problemi di tutti i giorni. Io una squadra di governo del movimento la immagino fatta di persone esperte, più che altro competenti nella materia, ma esperte dei problemi quotidiani. Il vero scollamento che abbiamo avuto nelle squadre di governo, dei governi che abbiamo visto fino ad ora, è il fatto che sono anche degli eccellenti accademici, ma non hanno mai vissuto la vita reale. Allora quando parlavano della sanità o della scuola, tagliavano con la calcolatrice senza sapere quale fosse il danno che stavano facendo e lo stesso fa oggi la Lorenzin, tagliando 208 esami diagnostici, tagliando altri soldi alla sanità, il governo Renzi li ha tagliati a luglio, 2,3 miliardi di euro, e causando un ulteriore aumento delle liste d'attesa. Dal 2011 ad oggi per fare un attacco ci vogliono 4 mesi in più nella sanità italiana. Però lei una volta mi ha detto che sarà un governo politico, perché i tecnici hanno fatto abbastanza danni. Io credo che è sbagliato il termine tecnico. No, dico, però Francesco chiedeva, era Francesco, e chiedeva esattamente, ma voi avete delle persone capaci? Cioè ci sono? Lei è una persona che si è fatta avanti con la sua bravura nel movimento e ce ne sono altre. La domanda dovrebbe essere, ma anche per un po' di correttezza, è dire avete persone incapaci, magari possiamo individuare. Però capace, io credo che per essere capace oggi nella politica, prima di tutto non bisogna credere di essere tuttologi. Il vero problema è che ci sono persone che credono di essere dei tuttologi, di saper mettere mano ovunque, e poi abbiamo visto al governo che danni hanno fatto. Io mi auguro di avere un governo del Movimento 5 Stelle che abbia anche l'umiltà di dire, io prima di affrontare questo tema voglio anche chiedere ai diretti interessati. Fermo restando che abbiamo un programma chiaro che passa per la democrazia partecipata. La gente non va più a votare perché non crede più nel fatto che in questo paese votando un nome o un partito per 5 anni possa cambiare qualcosa. L'importante è coinvolgerli nelle scelte man mano. Non è un caso che ci siamo ritrovati un mucchio di gente nelle piazze quando si è messo mano a temi importanti. Parlavamo della scuola ma possiamo parlare anche dei trasporti pubblici e di tante altre cose. Perché la gente vuole partecipare alle scelte e non parlo solo delle categorie. Se un cittadino paga le tasse deve avere il diritto di incidere nella scelta di come si spendono queste tasse. Per carità però poi ci deve essere un ministro capace di recepire. Esatto. Allora la risposta l'ha data lei. Bisogna avere la sensibilità di poter ascoltare e poi cambiare le cose. Per cambiare le cose noi il programma che abbiamo di governo che arricchiremo ad Italia 5 Stelle parte da questo presupposto. È scriverlo prima di andare a governare in modo tale che avremo già pronte le ricette per riuscire ad affrontare una serie di problemi. Ma ve la sentite? Vi sentite preparati per farlo? Con il metodo giusto? Individuando il metodo giusto? Esatto. È il metodo che riesce a farti sentire pronto per governare questo paese. Se tu ascolti le cose cambiano. Il reddito di cittadinanza che è la legge che porta... Ora ci veniamo perché dobbiamo parlare bene. Allora ne parleremo dopo. Vediamo prima la domanda di Nino, di Nino Lenzo che dice carissimo se non fate un patto con altri partiti, se è possibile azione civile, coalizione sociale, la vostra presenza nel Parlamento e nel paese non porterà a nulla. Questo paese va rivoltato. Non vi mancano idee proposte, riconosce, ma per dare una spallata a Renzi e compagni dovete allearvi. Io penso che nella prossima competizione elettorale e le amministrative 2016 già potrebbe essere praticata qualche forma di condivisione. Grazie. Quindi per le amministrative state pensando a qualche forma di condivisione, magari col possibile di Civati, però le unisco un'altra cosa. C'era una DN Cronos di qualche giorno fa, una sempre ben informata DN Cronos che parlava di Milano, parlava di Milano e diceva che c'è l'idea magari di un outsider, di un nome, perché a Milano non siete molto forti elettoralmente rispetto a città come Roma o Napoli dove i sondaggi vi danno molto alti. Parlava della possibilità di cercare un outsider, magari Gianluca Vago, il rettore della statale di Milano. Quindi le domande sono due, alleanze e candidature al di fuori degli iscritti? Noi abbiamo tre regole per le candidature. Una è che chi si candida deve essere incensurato, che deve aver fatto al massimo un mandato nelle istituzioni perché nel movimento se ne possono fare solo due. Poi si torna a casa e si torna alla propria vita, al proprio lavoro se ce l'hai, altrimenti speri di aver creato un mondo nel tuo operato politico che possa dare più posti di lavoro e possa dare più opportunità. E terzo, devi essere residente dove ti candidi e tagliarti lo stipendio. Queste tre regole, iscritto nel senso iscritto al blog dove si vota, al portale del Movimento 5 Stelle dove si vota, adesso arriverà Russo che aumenterà il meccanismo di partecipazione elettronico e quindi la possibilità... Quando arriva? Leate iscritto tra qualche giorno. Non è semplice fare una piattaforma la prima della storia d'Italia che permetta a un cittadino in qualsiasi posto d'Italia di poter fare emendamenti ad una proposta di legge, cosa che avviene già in parte sulla piattaforma Lex di oggi. Votare una proposta e poter orientare la propria idea. Quindi non è semplice perché lo stiamo facendo anche senza soldi pubblici, lo vorrei ricordare. Detto questo, io credo che queste tre regole sono i tre requisiti. Eliminerei il dibattito sull'outsider. Io sono stato candidato ovunque secondo la stampa, ero candidato al presidente della regione Campania, ero candidato adesso al sindaco di Napoli. C'è sempre questo bisogno di cercare il leader, questo bisogno di cercare la persona che è ritenuto il personaggio che possa discutere di sé. Io credo che avremo degli ottimi candidati sindaco. Non sono previste attualmente alleanze con schieramenti, tra l'altro quegli schieramenti non so neanche se esistono perché coalizione sociale in questo momento, ma non voglio fare ironia, lo dico con enorme rispetto, però coalizione sociale non si sa se esiste, azione civile non so che fine abbia fatto, è possibile a Civati, il quale adesso abita il gruppo misto della Camera dei Deputati. Io credo invece che dovremmo fare e dovremmo aprirci sempre di più alle parti della città di Milano, ma ricordo che si va a votare a Napoli, Salerno, Benevento, Trieste, Bologna, Torino, quindi si va a votare in grandissime città d'Italia, a sempre quelle parti della città che magari ci vedono con un po' di pregiudizio, categorie, parti attive, comitati che in questo momento magari non conoscono bene il movimento o ne hanno una visione distorta, non per fare alleanze di liste, ma alleanze sui temi, che significa andare in una periferia dove ci sono enormi problemi e dire guarda il movimento ti dà l'opportunità dal punto di vista delle sue regole di poterti candidare e provare a cambiare questo paese. Io così ho iniziato, io sono entrato in una lista e ho detto io ci provo, ci metto la faccia, magari perdo, non vengo eletto, però voglio provare a cambiare il mio territorio. Allora invece di rigenerare questi outsider o qualcuno che già è stato troppo... Però il dibattito sull'outsider c'è da tempo nel movimento, ci sono... Non è un dibattito sull'outsider, è più un dibattito giornalistico, perché nel movimento... Però guardi, io ho parlato, mi ricordo con Putti, il capogruppo a Genova, lo stesso Pizzarotti a Parma, loro sono convinti che nel momento in cui si va a delle competizioni amministrative, che lei stesso mi spiegava tempo fa che per voi sono sempre state più complicate, il fatto che ci sia un nome riconoscibile aiuta, è spesso un nome di una persona che si è fatta valere per determinate cose. Noi ormai sui territori abbiamo nomi riconoscibili, sono persone che si battono tantissimo sul loro territorio, erano sconosciuti, adesso invece abbracciano le cause dei problemi dei trasporti, le cause della sanità. Di Battista a Roma ha i sondaggi altissimi. Però se Di Battista è stato eletto come me e come tanti, se noi siamo stati eletti in Parlamento e stiamo facendo una battaglia in Parlamento per una serie di temi, come quelli di cui abbiamo parlato prima, se io mi sposto in Regione Campania e Di Battista se ne va a Roma, alla fine ci sono due persone in meno che portano avanti il mandato elettorale dei cittadini. Noi siamo stati mandati lì, per esempio, per tagliarci lo stipendio e far partire nuove imprese. Questo era un obiettivo che avevamo già scritto nel nostro programma prima di candidarci. L'abbiamo fatto. Sono 400 le nuove imprese italiane, e parlo di parrucchieri, librerie, caffè letterari, stanno nascendo in tutta Italia da un mese, grazie ai soldi dei nostri stipendi. Noi abbiamo un obiettivo al Parlamento. Ci saranno altre persone che porteranno avanti il loro obiettivo nelle città. Se vinceremo nelle città dipenderà dalle persone. Quindi non cambiate il metodo, non cercate dei nomi di richiamo. Io credo che cambierà il movimento nelle città, in quanto cresceranno le persone che ci partecipano. Se hanno i requisiti si può candidare chiunque, basta che abbia i requisiti. Però non andrà a cercare una faccia. E sia condiviso, nel senso che non è che abbiamo scalate di personaggi improbabili nel movimento. Queste regole fino ad ora ci hanno tenuto alla larga da vecchi volponi della politica che volevano portare il loro pacchetto di voti. Di Pietro voleva candidarsi a Milano. Non lo volevo dire Volpone. Però mi è venuto in mente che voleva candidarsi per voi. Io nominavo i Volpone ma non stavo pensando a Di Pietro. Ma in ogni caso dico semplicemente che in questo movimento ci sarà l'opportunità per tutti. Però Di Pietro non ha i requisiti. Perché Di Pietro ha fatto più di due mandati. È stato già un'eternità per me nelle istituzioni. Non voglio fare un attacco a Di Pietro, però sinceramente non credo che si possa derogare alle regole. Se si comincia a derogare alle regole facciamo come il Partito Democratico che aveva la regola dei tre mandati salvo eccezioni. E le eccezioni erano più della regolarità. Aldo Capelletti, un'altra domanda, vi chiede, e poi veniamo al reddito di cittadinanza, che l'Italia sia governata da ladri corrotti incapaci e dimostrato, vabbè, poi dice, eppure solo una piccola parte vota o voterebbe per il movimento. Secondo me, perché non si fidano? Non è chiaro chi decida nel Movimento 5 Stelle, soprattutto su punti controversi non esplicitamente contenuti nel programma del Movimento. Non pensa ci voglia più chiarezza? Cosa viene deciso da chi? Incluso quando ci si rivolge agli iscritti per farli votare e quando no? Sono convinto che un processo decisionale chiaro aiuterebbe molto a convincere milioni di italiani che non sopportano i partiti tradizionali, ma al momento preferiscono astenersi. Io dico una cosa, a volte veniamo accusati di essere troppo legati alla partecipazione. Ci sono i cittadini che giustamente dicono, ma se io vi mando lì dovete avere le idee chiare sulle cose, non potete fare un referendum su ogni cosa. E questo in parte è vero, nel senso che noi se ci presentiamo alle elezioni con un programma, poi non è che rimettiamo in discussione tutto il programma. Però è vero che all'inizio facevate assemblee... Poi ci sono delle occasioni invece contingenti che magari nel programma non ci sono, perché noi nel 2013 potevamo fare un pacco di fogli chiamato programma, invece abbiamo voluto presentare solo i punti che avevamo condiviso nel movimento, avevamo discusso. Allora che cosa succede? Che arriva il tema delle unioni civili e noi lo mettiamo in votazione sul portale, sulla nostra applicazione, i cittadini hanno votato sì alle unioni civili e quindi noi stiamo spingendo quella proposta di legge. Allo stesso modo è successo in passato per il reato di migrazione clandestina... Non è una sponda, noi siamo determinanti, nella commissione della giustizia del senato dove si sta discutendo, noi siamo determinanti e quello che recriminiamo al PD è che sta rallentando il procedimento invece di accelerarlo. Un accordo con l'NCD invece di prendersi i vostri voci. Cercando un accordo con l'NCD che potete immaginare per chi magari aspetta le unioni civili che sono già un'idea che si discute da troppo tempo, un accordo con l'NCD a cosa possa portare. Quindi io credo che non è che c'è una difficoltà a capire chi decide in questo movimento. Forse noi dobbiamo spiegare meglio come funziona, abbiamo un programma che lo portiamo avanti e mentre dal punto di vista dei temi legati a quello che non c'è nel programma facciamo decidere le persone. E dico a quel cittadino, basta iscriversi su movimentocinquestelle.it e ogni volta che votiamo o abbiamo una legge che vogliamo mettere in discussione riceverà un'email e può accedere alla piattaforma per commentarle o votarle. Immagino però si riferisse al fatto, per esempio sulla RAI non è stato fatto nessun passaggio né parlamentare, forse parlamentare sì, si erano incaricati né sul web, si è scelto Freccero, mandiamolo. Perché se lei vede nel programma del 2009 c'è un chiaro riferimento alla RAI via i partiti dalla RAI e soprattutto riorganizziamo i canali, riorganizziamo le strutture della RAI. Quando ci siamo ritrovati con Renzi che prima aveva detto via i partiti dalla RAI e poi ha deciso di votare il CDA con la legge Gasparri, che lui stesso aveva criticato mi pare un anno fa da un palco noi allora avevamo due giorni per decidere e che cosa abbiamo fatto? Invece di mettere uno nostro, cioè di andare a prendere uno amico lì dentro abbiamo scelto una persona che aveva un curriculum, le persone che stanno nella commissione di vigilanza RAI del Movimento 5 Stelle che aveva un curriculum ma che soprattutto non si sognerebbe mai di ricevere un ordine da noi seppure qualcuno dovesse impazzire del Movimento e andare da Freccero e dire tu devi fare così ma lei lo immagina Freccero che dice sì signore, non credo. Questa è la nostra garanzia perché abbiamo in parte, in piccolo, applicato l'idea di RAI che abbiamo mettere persone, non lo spin doctor di Casini per intenderci, cosa che attualmente è stato fatto da Renzi. Però parliamo un attimo di RAI, poi prepariamo la domanda di Enrico Savelloni perché è interessante questa cosa, è vero Renzi diceva via i partiti della RAI poi il PD è entrato a gamba tesa su RAI 3, sul Tg3, sull'informazione soprattutto di RAI 3 e voi improvvisamente siete diventati i difensori della libertà di informazione che è un po' strano perché non avete mai avuto un buon rapporto con l'informazione in Italia soprattutto all'inizio, ripetete sul blog la classifica che siamo aiuti ai posti avevate fatto le liste, i giornalisti del giorno, ogni volta che un giornalista scriveva qualcosa che non si adattava alla vostra idea della realtà o che vi criticava troppo secondo voi avete cambiato idea sull'informazione? No, io credo che sia legittimo criticare, il problema qual è? Che oggi il vero pericolo è che se il partito di governo possiede la RAI dal punto di vista del CDA, dal punto di vista dell'influenza che ha e il Presidente del Consiglio dice una determinata cosa sulla RAI non sta esprimendo solo un'opinione, potrebbe tradurre infatti quello che ha detto e sta influenzando l'informazione pubblica poi c'è un'altra questione importante che secondo me l'attacco alla RAI, ai talk di Renzi è un grande segnale di debolezza quando io ho visto che Renzi attaccava Giannini, attaccava, non Giannini di preciso perché Giannini è stato protagonista poi di coloro che oggi hanno discusso sui talk ma quando ho visto che attaccava i talk in quel modo per me sono segnali di debolezza significa che lui ha paura che oggi la TV e oggi il palinsesto di una TV possa fargli perdere consenso e quindi io mi chiedo che cos'hai da nascondere o da preoccuparti? Probabilmente il fatto che oggi abbiamo una TV che ogni tanto dice magari che non hai abolito le province Renzi ma li hai solo tolto gli elettori perché le province ci costano più di prima secondo la Corte dei Conti e se cominciamo a dire tutte queste piccole verità alla fine il consenso di Renzi comincia a scemare sono d'accordo su chi dice che lui vorrebbe una TV a sua immagine e somiglianza ma perché oggi si sente evidentemente debole e perciò attacca Enrico Savelloni sono un anziano e costante elettore di sinistra dal PC al PD ho votato alle primarie Renzi mi sono subito pentito molta stima per i deputati 5 Stelle specialmente per Di Maio e Toninelli che voterò alle prossime elezioni l'unico neolo trovo nella presenza di Grillo è con me molte persone le quali sono dubbiose se dare il voto a questo movimento perché ritengono che le buffonate dice Enrico di Grillo non sono all'altezza di un politico serio perché non gli dicono di mettersi un po' da parte inoltre perché dicono che dopo due mandati non si ripresenteranno dopo che hanno acquistato la stima di moltissimi elettori vede come vede i due mandati non piacciono io credo una cosa ricevo anche altre mail che mi dicono fate vedere di più Grillo e meno Di Maio perché? perché questo è un movimento che rappresenta la società italiana e ci sono tante personalità e secondo me se un movimento è ricco di personalità finché ognuna rimane com'era cioè se Grillo rimane Grillo Di Maio rimane Di Maio e i nostri consiglieri regionali rimangono come sono non c'è da preoccuparsi io credo solo che sia improprio dire che Grillo è un politico nel senso lui ha cercato di fare un movimento che buttasse giù quelli che si definivano politici di professione lo ha fatto lo ha consegnato ai cittadini italiani nel senso che ci sono oltre 1500 eletti in Italia che erano cittadini che volevano provare a cambiare le cose e sono entrati nelle liste non perché conoscevano Grillo ma perché c'era un metodo democratico di selezione e sta semplicemente facendo il garante di un paio di regole che ha il movimento i due mandati sono l'unico modo per stimolare un parlamentare che può essere il migliore del mondo il migliore del mondo un parlamentare o un qualsiasi altro eletto nelle istituzioni a fare le cose in fretta e bene le dico proprio sulla mia esperienza personale io sono preoccupato del mondo in cui ritornerò tra virgolette dopo i miei due mandati e quindi provo a migliorarlo e per questo sto cercando di far crescere nuove imprese stiamo cercando di far approvare il reddito di cittadinanza e di abolire Equitalia perché in quel mondo io sono sicuro per regola e per statuto che dovrò ritornarci a vivere come cittadino e non come parlamentare c'è una differenza ovviamente perché avere il privilegio di lavorare nelle istituzioni per provare a cambiare le cose è un privilegio chiunque in questi anni, anche il migliore è stato per 30 anni lì dentro si è sconnesso dalla realtà e non ricordava quali fossero i problemi in un sondaggio tre settimane fa lei era dato con un gradimento superiore a quello di Grillo e poi era il giorno che lei ha incontrato Grillo qui a Roma quello della battuta e lui ha detto maledetto maledetto sei tu il leader come ci si sente ad avere un gradimento maggiore del fondatore del Movimento 5 Stelle? ma i sondaggi lasciano il tempo che trovano secondo me mi sapevo che avrebbe derubricato no io non voglio derubricare però attualmente hanno fatto il sondaggio su di me magari se fanno il sondaggio su un altro membro del Movimento 5 Stelle però non è che lei ci viene a dire che a Imola parliamo di programma i mattoncini del programma e poi a Imola Grillo dice Di Maio è il candidato premier questa era la tesi dell'anno scorso al cerco massimo doveva essere incoronato poi l'hanno cambiato no non l'hanno cambiato i fatti hanno smentito i fatti hanno smentito quello che diceva quest'anno non ci saranno incoronazioni me lo promette anche perché le monarchie per fortuna non ci sono più in Italia detto questo io credo che i sondaggi lasciano il tempo che trovano sono contento di dare un contributo a questo movimento come tutti gli altri parlamentari, gli altri eletti, gli altri attivisti quando ci sarà l'esigenza di eleggere un candidato presidente del Consiglio lo individueremo ma voglio precisare non sarà un leader del movimento c'è una differenza perché altrimenti a quella persona che diceva chi decide io non posso rispondere no decide Di Maio, decide Grillo decide Di Battista noi cerchiamo ma ambiamo con molta modestia nel senso che sappiamo che è un meccanismo da perfezionare non si è mai fatto in Italia di far decidere ai cittadini sui temi se ci riusciamo sconfiggiamo l'astenzionismo la democrazia partecipata è l'unico modo per sconfiggere l'astenzionismo in Italia altrimenti arriverà sempre il prossimo leader in calo o in ascesa nei sondaggi che dice non vi preoccupate datemi il voto ci penso io e poi alla fine pensa a se stesso e non agli altri abbiamo poco tempo e dobbiamo parlare di due cose assolutamente di reddito di cittadinanza e di immigrazione perché sull'immigrazione lei sa che io ogni tanto mi arrabbio Alfredo Schiavone anche molti italiani si arrabbiano per come sfruttano l'immigrazione alcune cooperative alcuni ministeri Alfredo Schiavone come evitare che il reddito di cittadinanza vada ad accumularsi con altre fonti di reddito chiaramente non lineari tipo il lavoro nero insomma come renderlo effettivamente un sostegno per chi non ha reddito leggo le prime due le altre le abbiamo un po' evase come allontanare dal movimento dagli spazi virtuali di forum alle piazze personaggi di estrema destra alle volte esplicitamente razzisti all'ultima rispondo che è il movimento stesso poi alla fine ad espellere queste persone ma dico quando parlo di movimento noi abbiamo tanti gruppi sul territorio abbiamo più di mille gruppi sul territorio e lo vedo poi alla fine è quasi un processo naturale chi viene lì per portare idee razziste ma anche a fare solo polemica però è vero che a volte anche qui a Roma con Forza Nuova avete avuto ma assolutamente quello è Salvini forse ci hai scambiato per qualcun altro no ma neanche Casa Pound assolutamente qui semplicemente parliamo di un movimento che ha saputo tutelarsi da questi arrembaggi in passato detto questo la questione radio di cittadinanza noi abbiamo studiato la legge sulla base degli altri paesi europei che ce l'hanno da 30 anni e che cosa facciamo? teniamo impegnata tutta la giornata chi lo percepisce io non vorrò mai dare il reddito di cittadinanza ad uno che sta sul divano alla mattina e alla sera assolutamente corsi di formazione tutto il giorno e otto ore alla settimana di lavori di pubblica utilità che significa far risparmiare ai comuni o dare ai comuni le risorse per sistemare le strade per aiutare nelle scuole per aiutare gli anziani questo è il primo meccanismo seconda cosa oggi molti paesi europei stanno chiudendo a reddito di cittadinanza a immigrati italiani per esempio per l'Inghilterra o ad altri paesi che vengono in Belgio purtroppo io credo che su questo noi siamo stati un po' più avanti abbiamo dei flussi migratori di 200.000 150.000 immigrati ogni anno non potevamo pensare dal reddito di cittadinanza a chi metteva piede qui senza un diritto d'asilo senza sapere se doveva essere rimpatriato o stare qui e per questo la nostra legge non prevede di darlo agli stranieri che è un immigrato che magari è arrivato irregolare perde il lavoro e però lui il reddito di cittadinanza non può averlo ricordiamoci sempre che noi abbiamo una forma non la voglio definire il reddito di cittadinanza ma di assistenza all'immigrato in Italia che sono i famosi 38 euro al giorno a chi fa richieste d'asilo che a volte dura anche per 2-3 anni il nostro primo punto del programma sull'immigrazione e il reddito di cittadinanza agli italiani perché noi dobbiamo dare pace sociale ad un paese che ha 9 milioni di italiani in difficoltà e lì dentro ci sono molti avvocati molte maestre la presidente degli ordini professionali italiani mi ha spiegato che se loro espellessero dagli ordini professionali i professionisti che guadagnano meno di 500 euro al mese la disoccupazione in Italia schizzerebbe al 20% noi abbiamo tante categorie che hanno enormi difficoltà e non le riteniamo povere perché sono in difficoltà non sono il cliché del povero che abbiamo ma il reddito di cittadinanza si rivolge a quelle persone per formarle e reinserirle in un lavoro che gli permetta di arrivare a fine mese sa perché mi stupisce un po' perché quando abbiamo cominciato io e lei a parlare di reddito di cittadinanza e lei mi convinceva del fatto che poteva essere una buona idea mi raccontò di un suo amico che era andato a lavorare a Londra poi aveva perso il lavoro poi il governo inglese lo aveva formato per fare un altro lavoro e adesso viva Londra l'aveva inserito quella persona oggi io spero quell'italiana a Londra ha avuto questa opportunità io spero che possa tornare in Italia e avere il reddito di cittadinanza qui invece guardi io spero che un nigeriano in Italia possa avere questa opportunità ma guardi non ci sarebbe niente di male se avessimo la possibilità di prevedere le spese ma non possiamo prevedere le spese perché i flussi migratori non sono prevedibili quindi è stato anche un problema e voglio dire un'ultima cosa i soldi li troviamo perché abbiamo 25 voci di spesa già individuate che sono depositate al Senato le potete guardare da tutta una serie di sprechi di Stato ma anche dalla tassazione di parti di questo paese che sono tassate troppo poche come l'autostrade e come il gioco d'azzardo per non parlare del taglio delle consulenze delle pubbliche amministrazioni abbiamo soldi ovunque e l'abbiamo dimostrato perché 130 parlamentari tagliandosi lo stipendio in un mese hanno fatto partire 400 imprese in un mese e mezzo e entro un anno puntiamo a 6.000 8.000 imprese immigrazione poi purtroppo dobbiamo chiudere voi avete trovato una strada che è quella di proporre il superamento del regolamento di Dublino la questione delle quote è una strada che poi effettivamente l'Europa sta seguendo voi siete stati primi a presentare una mozione che poi era stata approvata quasi all'unanimità se non sbaglio alla Camera poi però ogni tanto dal blog arrivano delle frasi come Roma sommersa da topi e clandestini come se fossero la stessa cosa poi corretta oppure dei post in difesa di Orban lei stesso tempo fa aveva incontrato il vicepresidente della Camera ungherese che è dell'opposizione il giorno in cui loro avevano detto che volevano chiudere che volevano alzare il muro o forse che non volevano sottosterse a Schengen una cosa del genere però lei aveva detto che bisognava comprenderli aveva espresso comprensione per un governo e il blog ha espresso comprensione per un governo nel momento in cui quel governo lanciava i lacrimogeni su donne e bambini erano due momenti storici differenzi ma è giusto che vuole capire qual è la nostra linea sull'immigrazione non è quella di Orban che spara lacrimogeni sui esseri umani questo l'ho detto più volte o che alza muri o che chiude Schengen esattamente sulla questione di Schengen noi avevamo detto provocatoriamente se l'Europa e in generale i paesi del continente non ci vogliono dare una mano allora lo sapete che cosa facciamo prendiamo i miliardi che diamo all'Unione Europea ce li teniamo noi e li cominciamo a gestire noi i flussi migratori in maniera efficiente infatti abbiamo anche un progetto il problema è che gli italiani non ne possono più del fenomeno migratorio non perché siano poco solidali o siano intolleranti ma perché vedono questo fenomeno sfruttato come un business da parte della politica mafia capitale ci ricorda che i partiti PD e destra erano dentro lo scandalo della gestione dell'immigrazione uno scandalo ma anche uno schifo se possiamo dire perché sui disperati si faceva lucro questo gli italiani non lo supportano più su quello sicuramente bisogna battere molto noi abbiamo proposto all'inizio la modifica del regolamento di Dublino abbiamo votato in Parlamento Europeo a differenza dei Salvini il trasferimento di 140.000 migranti in altri paesi la distribuzione per quote di chi arriva qui e adesso però vogliamo che si continui lei capisce che un elettore uno che si astiene come ci scriveva qualcuno non sa chi siete cioè a volte la linea del blog è completamente diversa da quella che parla io non credo su Orban noi non abbiamo giusto per dire questa cosa ma come tante altre noi sull'immigrazione non abbiamo mai detto che bisogna sparare i clandestini o sparare però dicono c'è un problema di toni diversi anche la ricerca di un consenso di tipo diverso ci sono due problemi una è anche la disinformazione che si è fatta su di noi a volte a volte che ci ha danneggiato ingiustamente e un altro è che siamo un movimento giovane guardi noi abbiamo 5 anni noi si stiamo da 5 anni mi pare dopo domani è il nostro compleanno è un movimento giovane che fa eventi come Italia 5 Stelle il 17-18 ottobre ad Imola per farsi conoscere ma davvero prima diceva qualcuno diceva come si supera piazze, rete e noi ormai facciamo più eventi pubblici di quanti eventi facciamo in rete nel senso di quante cose investiamo nella rete facciamo tante cose nel mondo reale diciamo così non in quello virtuale quindi voi siete quelli reali non siete il blog tutti e due lei mi può toccare sa che non sono virtuale su questa cosa del blog prima o poi ci torneremo sicuramente ci torneremo quando l'ho intervisto per Repubblica la ringrazio molto grazie a lei grazie al vicepresidente della Camera di Maio grazie a tutti grazie per le domande a prestissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti